11 febbraio 2022 in diretta live dal bellissimo paese di torre ruggiero sono le 23 e 24 si torna in quel disimbario dopo una bellissima serata amichevole con gente molto molto accogliente perché quattori di ruggiero la gente così solare anche di notte ti fa sentire come a casa quindi invito tutti a venire in questo meraviglioso borgo di torre di ruggiero quest'ora sono tutti a casa giornata invernale fa freddo ma l'importante è venire in questi posti valorizziamo le serie calabre valorizziamo questi paesi hanno bisogno di tante altre persone accoglienti come vedete a torre ruggiero hanno messo il limite di velocità vedete una specie di cartello che ci segnala di rallentare nel centro abitato perché se non qualora dovesse passare forte magari disturberebbe le persone che ci dormono sulla nostra sinistra il meraviglioso santuario di questa meravigliosa festa che tutti conosciamo quando arriva settembre beh guardate che meraviglia il santuario di torre ruggiero di notte un saluto a tutti e alla prossima dalle serre calabre adesso si imbocca la trasversale